Amici di LG, oggi voglio presentarvi qualcosa di veramente speciale, dedicato a chi guarda con interesse il mondo smartphone, ma che non se la sente di abbandonare il proprio telefonino tradizionale. Dovete sapere che in Italia ci sono ancora più di 15 milioni di persone che usano un telefono di vecchia generazione e proprio per loro ecco qui il nuovo LG Wine Smart, un prodotto che unisce la praticità dei telefonini con la versatilità degli smartphone. Il design salta subito all'occhio, LG Wine Smart infatti ha la forma a conchiglia con un'elegante finitura rugosa che lo rende più piacevole al tatto. Quando è chiuso LG Wine Smart è compatto e maneggevole, ma quando lo aprirete troverete una maxi tastiera e un display ampio da ben 3,2 pollici. I tasti e i numeri sono grandi e ben distanziati, così non rischierete di premere il numero sbagliato. In più ci sono i tasti di navigazione per spostarsi fra i menu e quelli per accedere rapidamente alla rubrica, ai messaggi, alla fotocamera e alla vostra funzione preferita. Visto da fuori, LG Wine Smart è in tutto e per tutto un telefonino tradizionale. Il suo cuore invece è Smart al 100%, grazie al sistema operativo Android Lollipop che vi permetterà di utilizzare tutte le app che vorrete, da Whatsapp a Facebook, da YouTube ai videogiochi. LG Wine Smart metterà nelle vostre mani tutta la versatilità degli smartphone più evoluti. Naturalmente l'esperienza d'uso è stata ottimizzata per il particolare design di Wine Smart. Potrete infatti usare la tastiera per selezionare le app, navigare all'interno dei menu e scrivere usando il T9. Oppure potrete toccare semplicemente lo schermo perché il display di Wine Smart è completamente touch. E se non avete mai usato uno smartphone, prima d'ora, non preoccupatevi. Potrete impostare un menu semplificato più chiaro e immediato da leggere. Con la funzione Safety Care potrete anche inviare automaticamente, in caso di necessità, un messaggio di emergenza o informazioni sulla vostra posizione a un elenco di contatti predefinito. Parliamo di caratteristiche tecniche. Wine Smart è veloce e reattivo grazie al processore quad core da 1,1 GHz Qualcomm Snapdragon con 1 GB di RAM. È velocissimo anche in internet perché si collega alle reti 4G fino a 150 Mbps oppure al Wi-Fi. Potrete scattare foto da 3 megapixel oppure scattare dei selfie o fare video chat con i vostri cari usando la fotocamera frontale VGA. Per salvare le foto e la musica avrete a disposizione 4 GB di memoria interna, espandibile fino a 32 GB. Non mancano poi il navigatore GPS, il Bluetooth, la radio FM con RDS e un pratico LED che vi avvisa di nuovi eventi quando il telefono è chiuso. E con la batteria da 1700 mAh potrete stare tranquilli di arrivare almeno fino a sera senza ricaricarlo. Insomma, LG Wine Smart è il modo giusto per entrare nel mondo smartphone senza stravolgere le proprie abitudini. Ma potrebbe essere anche un ritorno alle origini per chi vede nei flip phone la nuova tendenza da seguire. È già disponibile in due colori, Blue Navy o Wine Red, con in dotazione il cavo dati per collegarlo al PC e gli auricolari stereo. Con LG Wine Smart il telefonino diventa smartphone. Alla prossima!